Le chiamano sliding doors, porte scorrevoli, quei momenti che avrebbero potuto cambiare la storia. Tutti conosciamo la carriera che Maurizio Sarri ha fatto dopo essere passato dall'Empoli a Napoli, la sfida al Palazzo con i Partenopei, l'Europa League vinta con il Chelsea, il ritorno in Italia dall'eterna nemica a Juventus e il successivo esonero dopo una sola stagione. Eppure, proprio nell'estate in cui Aurelio De Laurenti se gli offre la panchina del Napoli, Sarri ha rischiato di finire a Milanello. A volerlo è Gagliani, dopo che Filippo Enzaghi non è riuscito a portare i rossoneri oltre il decimo posto e oltre i quarti di finale di Coppa Italia. Non sono chiari i motivi per cui l'affare non andò in porto, anche perché Berlusconi ai tempi era rimasto folgorato dal gioco dell'Empoli di Sarri. Forse qualche dichiarazione, forse le sigarette o uno stile visto come poco da Milan, fatto sta che i rossoneri virano su Sinisa Mijajlovic e mancano l'Europa di 4 punti, mentre Napoli di Sarri arriva secondo.